Ecco, Angelo Bassi, una prima con un secondo, perché tra poco ci sentiamo nel perito delle sue risposte, però l'importante è questa tua precisazione, perito, ricordi belle, perché magari quando si dici nel linguaggio comune una scienziata di belle, si pensa all'outsider, anti-sistema, e questo è un'unità per far parte, come permettermi di dare un intervento per usare come semplice di liberi e conosciuti della comunità, per sostenere un'idea o modello che magari è ancora minoritario, è però tra le proposte che cercano di superare, di andare oltre i più viti del previso modello. Allora, prima di entrare ancora nel merito di questa ricerca, vorrei citare e ricordare la figura di Carlo Giancarlo Filardi, che è stato un gran tipo teorico di ambienti, è stato daher, allora, insomma, è stato un pazire, quindi pensi di più continuare. Quindi anche che ho bambi, chiuso che ricordano sia per i panni noi, che sono